A1 in direzione Bologna Per lavori in entrambe le direzioni Tra l'Astra, Assigna e Firenze Scandicci Sul raccordo Siena-Firenze Scambio di carreggiata Per lavori tra San Casciano E l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta Sulla statale 12 della Betone e del Brennero A causa di una frana Chiuso il tratto tra Borgo a Mozzano E Bagni di Lucca Deviazioni sul posto Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione Con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze E Comune di Firenze Vi auguriamo un buon viaggio Grazie a tutti